Siamo con Sparaccio della Dianese, un bel premio anche per la città di Diano. Sì, un bel premio, fa sempre piacere vincere in tutte le categorie, soprattutto per Diano perché è una società stupenda, una bella città e è stato veramente bello vincere. Rimarrai a Diano, andrai via, c'è qualche voce? No, no, sono già andato via, però sono molto comunque legato alla società e alle persone che la rappresentano e basta, dai, lo sport è anche questo. Quindi la Dianese è sempre nel tuo cuore? Assolutamente. Grazie, complimenti. Grazie.